Sono i perugini del Gaccio 2000 a festeggiare il primo posto finale in Serie C1 regionale di calcio a 5 e dunque ad approdare in binazionale. L'apoteosi arriva nello scenario del Palapellini al termine dell'ultima gara di campionato, vinta a 9 a 2 con Ponte San Lorenzo, dopo una volata a tre squadre durata mesi e mesi, con i biancorossi capaci di attestarsi a 56 punti e sorpassare in volata sia Real Rieti, che chiude seconda a due lunghezze dalla vetta, che gli Egubini del San Martino, terzi a quota 50 e dunque a 4 punti dal primo posto. Così ora arrivano i play-off per i ragazzi di Mister Fumanti, attesi sabato alle 15.30 alla Polivalenta al duello con Circolo Lavorato Riterni, arrivato quarto a quota 44. E se già giocare questa partita è un risultato straordinario per la matricola sanmartinara, che da neopromossa e con un roster giovanissimo nonché composto da tutti i ragazzi eugubini, ha lottato sino all'ultimo turno per la promozione diretta. Ora l'appendice play-off consente di poter ancora sognare un qualcosa di inimmaginabile sino ad appena qualche mese fa, per un autentico evento sportivo che si giocherà a gara unica e dove è atteso il pubblico delle grandissime occasioni nella palestra eugubina. Chi vince incrocerà poi Rieti nella finalissima interralaziale, sempre gara secca, per una partita che vale il pass per gli spareggi nazionali. Per quanto riguarda i verdetti salvezza, retrocede il Balanzano, mentre il Gubbio Burano si giocherà la permanenza nella categoria ai play-out contro Corciano e nell'altra sfida si affrontano invece San Mariano e Orvieto.